In questi giorni sono state tante, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, le manifestazioni organizzate in ogni città d'Italia, promosse dalle più diverse associazioni e realtà, che lavorano da sempre per contrastare la violenza maschile sulle donne. Anche a Fano, Piazza 20 Settembre, è stata la protagonista, domenica mattina, di tanta emozione per il flash mob organizzato dall'associazione fanese Teatro Lavanda, in collaborazione con l'ente carnevalesca. Già dal 2019, quando dedicò al mondo femminile il carnevale, e quindi toccammo anche questi temi così sensibili. Oggi è molto importante essere qui, abbiamo anche una comunità musulmana e questo veramente è un messaggio fortissimo, quindi tutti uniti contro questo problema sociale dilagante. Presente l'assessore Cucchiarini, in rappresentanza del comune di Fano, e le comunità dei fedeli musulmani della provincia pesarese, rappresentata dai responsabili e capi della preghiera della moschia di Fermignano e Fossombrone, che hanno accolto con entusiasmo e fermezza l'invito ricevuto. Una mattinata in cui gli uomini sono stati i veri protagonisti della camminata, partita da Piazza Costanzi. Uomini di diverse età, etnia e religione, che hanno voluto prendere le distanze dai violenti, facendosi portavoce di un messaggio di amore e rispetto reciproco, fondamento delle relazioni interpersonali e della civile convivenza. Oggi abbiamo deciso di rispondere a questa iniziativa che è il Flash Mob, proprio per dare un messaggio che l'Islam è contro la violenza in qualsiasi modo, e soprattutto la violenza contro le donne. Quindi il nostro messaggio è ovviamente quello di dare questo messaggio, e l'altra cosa è un appello a tutti gli uomini di qualsiasi religione, di qualsiasi etnia, di cessare la violenza contro le donne. Tutti uniti rigorosamente in scarpette rosse e calzari, simbolo sin dal 2009 di denuncia di abusi e di lotta per i diritti alla violenza di genere. Della stessa opinione la Presidente del Teatro Lavanda, che ha sottolineato l'importanza del messaggio lanciato in mattinata. La nostra volontà è di sollecitare le vittime di un abuso a denunciare presso le forze dell'ordine, pertanto ci siamo attivati in due modi per fare questo, sia un modo più celebrativo che un modo prettamente di servizio sociale. Come servizio sociale abbiamo in Italia da quattro anni quattro campagne nazionali differenti, che portano il messaggio a tutte le donne violate all'interno della loro privacy, delle loro case, con le televisioni, le radio, le sale cinematografiche, per coloro che possono uscire e i monitor da grandi schermo su manti stradali. La parte celebrativa invece la esprimiamo attraverso il flash mob Uomini in scarpe rosse, la cui natura di questo flash mob è di avvicinare, far incontrare tutti quegli uomini che hanno un'unica volontà, che si riconoscono in un'unica volontà, è quella di rispetto verso la donna. È un atto di grande forza, è un atto di forza e per arrivarci ci vuole veramente tanto tempo ed è giusto andare a denunciare perché la donna deve sapere di poter essere affiancata, sostenuta e diretta da tutte le istituzioni che si possono prendere cura di lei, così come gli ospedali, gli avvocati, gli psicologi, i centri antiviolenza e tutte quelle istituzioni, come le forze dell'ordine, concordano per portare la donna a un punto di liberazione dell'uomo violento.